Perché proprio a proposito di femminicidi oggi è scoppiata una polemica su una frase che ha detto ieri la nostra Barbara Palombelli a Forum. Lei ha detto che a volte è lecito domandarsi a proposito dei femminicidi se questi uomini erano completamente fuori di testa oppure se c'è stato anche un comportamento esasperante, aggressivo dall'altra parte. Barbara. 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 Non accada mai più andare anche a domandarci come disinnescare questa rabbia, questa violenza. Voglio ripeterlo, perdonami. Prima che diventi femminicidi. Però perdonami, nessun atteggiamento può innescare quella reazione perché un gesto di rabbia, un gesto esasperato, un gesto di qualsiasi tipo ci può essere in qualsiasi coppia. Questo è quello che dobbiamo insegnare alle nostre figlie, alle ragazze, che il primo gesto di quell'uomo va interpretato, decodificato, portato dallo psicologo, curato. Prima, il primo gesto, la prima parolaccia, il primo vaffa, il primo alzare uno schiaffo. Questo è prevenire i comportamenti, non esasperarli e quindi curarli. Tutta la mia vita è all'insegna di questo. Se qualcuno ha pensato di montare una tempesta mediatica per cambiare la mia biografia, io sono qua, ho abbastanza coraggio per andare avanti e per difendermi. Però è una falsità. E chiedo scusa a tutti coloro che hanno pensato, seppure per mezza giornata, che io potessi essere complice di qualcuno che compie un delitto reddito.